L'aveva promesso e l'ha fatto. In poco più di un mese la nuova giunta ha prelevato il relitto dal porto, anzi lo sta prelevando, comunque l'ha sollevato dall'acqua, l'ha accostato alla banchina. Sindaco, una promessa mantenuta? Sì, una grandissima operazione che non era scontata e per la quale veramente noi abbiamo addirittura aperto il COC, quindi il centro operativo comunale, perché è un'operazione veramente straordinaria e per la quale abbiamo messo in campo tutti e ringrazio tutte le forze dell'ordine, dalla protezione civile, la capettineria di Porto per la grande collaborazione. Ancora il processo non è concluso, ma ho detto e ripeto che il decoro della città viene prima di tutto, quindi noi non potevamo permetterci di vedere nel nostro porto, nella nostra passeggiata, un relitto all'interno del porto. In poco meno di un mese abbiamo messo in campo veramente una straordinaria operazione e sono veramente oggi felice e mi auguro che vada tutto bene e che il relitto venga portato fuori dal porto della nostra città. Sindaco, continuerà l'attenzione della giunta per quanto riguarda le necessità del porto, in modo particolare il dragaggio? Assolutamente sì, c'è il dragaggio, c'è addirittura un commissario straordinario che dovrei incontrare per tutto quello che riguarda la Marina dei Cesari, quindi questo è un primo tassello ma molto importante per far sì che il porto di Fano torni a crescere e che rinvigorisca. Dietro di me ci sono le operazioni ancora in corso, abbiamo appena sollevato l'imbarcazione dal fondo, stiamo cercando di pompare via l'acqua per poi portarla in secco. Ci vorrà ancora del tempo però le operazioni sono a buon punto, finché le operazioni saranno in essere la strada rimarrà chiusa, sia dal punto di vista carrabile che ciclopedonale per garantire la sicurezza dei cittadini. Chiaro è che se le operazioni continueranno con questa celerità, supponiamo, speriamo, incrociando le dita, che finiremo prima del 25, cioè di giovedì, ma che già da domani sera si possa riaprire il traffico. Un grazie veramente ai tecnici di lavori pubblici solo per aver messo a disposizione la propria competenza e la propria abnegazione al lavoro perché hanno veramente lavorato in due settimane per addivenire a un progetto di fattibilità realizzabile. Poi abbiamo i gruisti di Sorcinelli che hanno con noi sposato il progetto, sono ancora all'opera dietro di me, abbiamo Carmar Sub di Ancona che sono i tecnici subacquei che hanno permesso di passare le fasce, abbiamo la Marine Lift di Fano che chiaramente con noi ha collaborato e che utilizzerà il gommone per poi portare in secca il relitto e chiaramente non da ultimo la protezione civile che ha coordinato tutte le operazioni di terra insieme alla Polizia Amministrativa e alla Polizia Municipale. Comandante Battista, il relitto ora rimane così ancora accostato alla banchina ma che cosa, che sorte avrà? Diciamo questa è una prima fase, in realtà il relitto è previsto dalle operazioni di rimozione, una rimessa in galleggiamento e un posizionamento temporaneo sullo scalo di alaggio per le verifiche del caso e capire quali sono state appunto le cause che hanno determinato l'affondamento nonché determinare appunto le condizioni reali dell'unità e quale sarà la destinazione d'uso futura. A tutta l'operazione contribuisce anche la protezione civile, Saverio qual è il vostro compito? Noi siamo come sempre di supporto, il volontariato è di supporto alle istituzioni quindi stamattina siamo qui con il camion gru che è un meccanismo particolare per avvolgere e svolgere le panne di contenimento qualora quando la tirano su sicuramente uscirà fuori ancora qualcosa, acqua sporca ma forse anche olio, gasolio e quindi queste panne di contenimento fanno in modo che tutto l'olio e gli idrocarburi non vadano verso il mare e poi vanno raccolte con delle panne particolari e poi abbiamo delle pompe sia a scoppio sia elettriche qualora dovessero servire e un modulo per il lavaggio in pratica della barca se si scivola e tutto a bordo, tutto materiale che si serve c'è e già sul posto se non serve meglio così.